Il tuo ribadio A presto. Sì? Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. No, non se pare il fettacolo perché. Se voi vorrei accortire la carta. Poi al buio le garantisco che è possibile vedere il buio. Non trovavo i primi ingredienti. Eccolo qua. Grazie. Buon appetito. Ciao ciao, buona serata. Buon appetito. Buon appetito adesso! Buon appetito! 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 Grazie a tutti. 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 Vi metto il pane? Metti tu i panini dei ragazzi, datteli già fatti. Ah, li hai già fatti? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.